E salve a tutti ragazzi, qui è Bloodhark, oggi vi mostrerò come completare la Gasmith part 7 L'arma che dobbiamo utilizzare è il Remington Modem 870 12G a Pump Action Shotgun E abbiamo bisogno di qualche mods particolare Partiamo subito L'ME Cylinder 12GA Mazzola Adapter Dove ci monteremo il GK02 12GA Mazzola Brake Poi abbiamo bisogno dell'Handguard, il Magpul MOE M870 Poi abbiamo bisogno dell'inchrail, le guide Magpul M-Lock, la 4.1 e la 2.5 Dove monteremo una su una l'NC Start Tactical Biolaser e sull'altra il KAC Vertical Foregrip E infine ci monteremo il Polymer Stock M870 Malpul SGA Quindi andiamo al montaggio Basta togliere questi due ragazzi E poi ci andremo a montare tutto il resto Ed ecco qua Ci ha dato l'OK per consegnare la Gasmith Ci richiamo da lui Dove ci accetta La Gasmith parte 7 Ragazzoli vi ricordo che le mods potete trovare in elenco in descrizione Lasciate un like, un follow anche su Twitch E vi do appuntamento alla Gasmith parte 8 Ciao ragazzi Ciao ragazzi